il ventus salernitane è stata una partita un po' ma gli ultimi minuti sono stati incredibili bonucci segna il 93esimo riacciuffando un pareggio incredibile milik segna, toglie la maglia dimenticandosi che era stato già munito, doppia munizione ed espulsione il gol viene subito dopo annullato dal VAR questo è il fuorigioco di bonucci sul colpo di testa di milik questa regola raga va rivista fatemi sapere cosa ne pensate voi ma qui secondo me raga il fuorigioco non c'è posizione di bonucci non è obiettivamente influente e poi vabbè alla fine maxi rissa e tutti espulsi la sera si sono affrontate due squadre da due volti completamente differenti salernitana di nicola che aveva fame stava per vincere una juventus di allegri con tanta confusione ditemi la vostra nei commenti